È in corso presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione un tavolo di lavoro a cui partecipano tutte le associazioni, gli ordini, le università rappresentative della comunicazione e informazione a livello italiano. Gli obiettivi per Pia Social sono molto semplici e quelli prioritari sono tre. La svolta digitale con il riconoscimento delle nuove professionalità della comunicazione e dell'informazione digitale, un ufficio unico, l'ufficio comunicazione stampa e servizi al cittadino che integri le professionalità e dia velocità e qualità ai servizi che si hanno ai cittadini e finalmente mettere al centro la comunicazione e l'informazione pubblica anche a livello di agenda politica del Paese. Grazie